via Pasquale Viscante ciao Gian Viscante ciao Giacinto ieri ho ascoltato ieri ho ascoltato la voce del nostro podcast dal mio nuovo lo posso dire? vai, dillo, dillo non voglio fare una marchetta dal mio nuovo Alexa grande, gli smart speaker gli smart speaker è arrivato e la prima cosa che ho fatto Alexa, aprimi il podcast intelligenza artificiale spiegata semplice e funziona, e funziona funziona, funziona la puntata era la 106 della volta scorsa, oggi siamo a 107 allora, come state, come stai? allora, un grande giorno anche questo perché domani abbiamo un appuntamento incredibile che darà inizio se vogliamo, alla nostra avventura come Master Ambassador del Master Artificial Intelligence School che si terrà a partire da febbraio sarà chiaramente anche online e domani Open Day insieme al presidente della scuola domani Open Day quindi domani faremo una live all'interno del quale parleremo di tutte le informazioni utili per partecipare al Master iscriversi le borse di studio che ci sono messe a disposizione da The Future School per il Master di Intelligenza Artificiale ci siamo noi che parliamo ovviamente di Intelligenza Artificiale come Ambassador quindi per tutti gli per tutti i neolaureati o chi si sta laureando e vuole approfondire vuole inserirsi come dire in un mercato e oggi vi vedremo anche qualche dato veramente interessante quello dell'Intelligenza Artificiale questa è un'occasione ghiotta per continuare il vostro percorso esatto formativo con un grande Master oppure per chi altro? oppure per insomma un imprenditore che vuole rimettere in piedi una strategia più innovativa per la tua azienda magari vuoi guardare e capire effettivamente anche dal punto di vista tecnico che cos'è l'Intelligenza Artificiale perché ricordiamo ci sono circa 60 ore di docenza tecnica e 60 ore di docenza business orientata al business fatta direttamente dai manager delle più grandi aziende italiane e non solo veramente un percorso completo esatto theartificialintelligenceschool.it e lì trovi i link per partecipare domani in diretta all'open day e tra l'altro ci sono anche 12 borse di studio da considerare no? eh certo noi ci siamo ci saremo domani mi raccomando non mancare questo grande appuntamento lo dicevamo Jacinto Pocanzi il mercato dell'Intelligenza Artificiale super interessante anche a livello economico ci sono un sacco di soldini gireranno un sacco di soldi a quanto detto nell'ultima presentazione dell'IDC 2020 si prevede che nel 2024 le aziende nel mondo investiranno 110 miliardi di dollari su innovazione legata all'Intelligenza Artificiale non che già in questo momento non se ne stiano investendo i soldi ma anche in seguito alla crisi legata dal Covid-19 la previsione è aumentata del 33% su base anno più 650% di investimenti negli ultimi 4 anni in Intelligenza Artificiale il che vuol dire che negli ultimi 4 anni praticamente è esploso questo supermercato e guarda caso noi da circa 2 anni ci stiamo dentro come come podcast come come ambassador come osservatore abbiamo un po' di tutto siamo qua il libro un sacco di roba un sacco di roba e prevalentemente quel 33% in più è dettato proprio all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in una scoperta farmaceutica di nuovi farmaci no Pasquale insomma questo è molto importante ma vanno anche molto bene spiccano le scienze della vita quindi significa tutta la parte legata all'elf e alla salute ma anche il commercio a dettaglio ho postato proprio oggi la notizia della volta scorsa di questo assistente virtuale che aiuta molto i commercianti anche nel mondo del lusso a vendere online insomma se sei all'interno di un'azienda di qualsiasi tipo poniti la domanda di come l'Intelligenza Artificiale può entrare nella tua azienda se non l'hai fatta ancora prendi il nostro libro insomma lì ci sono 130 applicazioni o ascoltati le puntate di prima cerca di trovare nei titoli qualcosa di interessante oppure scrivici in privato insomma in qualche maniera una mano te la diamo assolutamente sì e se ti va di approfondire anche in ambito video quindi vedere noi vederci parlare e ascoltare anche i super esperti che ogni lunedì sono i nostri ospiti all'interno dell'Academy iscriviti alla AI Academy se non l'hai ancora fatto questa era la prima news assolutamente interessante ogni tanto Giacinto bisogna dare anche qualche numerino di questo di questo mercato perché poi c'è chi ci fa anche business 110 miliardi pensa a te Pasquale sono tanti sono tanti parliamo di poste italiane e di quello che sta combinando o realizzando per dire per dirla meglio in provincia di Reggio Calabria Pasquale sì assolutamente un bell'assistente digitale disponibile 24 ore su 24 questa è una delle applicazioni che più ci piace raccontare è una delle applicazioni che ha un riscontro poi molto più vicino anche alle persone che magari di intelligenza artificiale non le mastichano assolutamente ma hanno quelle solite domandine frequenti avere a disposizione un assistente virtuale H24 che ti risponde non è mica niente infatti molto interessante soprattutto in questo periodo in cui insomma le file è meglio non farle per tutti i possessori in quella provincia della Postepay parliamo di 200 mila persone Pasquale è operativo il chatbot a cui gli utenti potranno chiedere il saldo la lista dei movimenti bloccare la carta magari perché l'hai persa o richiedere un duplicato del codice PIN perché insomma ti sei dimenticato il famoso numerino insomma qualcosa di davvero molto molto utile se sei a Reggio Calabria tieniti pronto perché insomma è arrivato l'assistente virtuale dovrebbe essere arrivato anche in altre province italiane vai sul sito di Poste e vattela a cercare ma mi collegherei Pasquale da questo anche a quello che succederà di qui a qualche settimana qualche lunedì all'interno dell'AI Academy e chissà che Silvia Pontarelli che è la Head of Customer Service Modeling di Poste Italiane non ci parlerà di un'assistente digitale magari chi lo sa e magari Silvia il 9 novembre il 9 novembre esatto 9 novembre AI Academy su iasplicata semplice punto it trovi tutto il programma insomma il modo per iscriverti ma secondo te Giacinto c'è ancora qualcuno che ci ascolta e non si è iscritto all'AI Academy oh ragazzi che l'AI Academy è gratuita non vorrei che qualcuno diciamo costa un sacco di soldi questi intervistano Poste Microsoft l'altro giorno con la Barbara Cominelli di Microsoft ma che live abbiamo fatto è vero è vero e forse a pagamento non lo so è a pagamento no è grafico e allora vai vai parliamo adesso di immobili di edifici molti ci avete chiesto ma come possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale nelle costruzioni a cui ci hanno detto ma non possiamo creare dei robot che costruiscono le case da solo insomma ci stanno arrivando le case in 3D sono già realtà ma in questo caso non vi parliamo di case 3D ma vi parliamo di una tecnologia che si chiama Brainbox AI che permette di rendere autonoma il controllo energetico del consumo energetico da parte di edifici con un risparmio con una riduzione dei costi del 25% e delle emissioni dal 20 al 40% questa è la missione di Brainbox AI già presente nel settore della tecnologia per gli edifici autonomi quindi loro sicuramente ne sanno già da parecchio di questa tecnologia in questo ambito ci lavorano guarda caso si chiama Brain c'è sempre un Brain in questa da qualche parte io c'ho qui davanti la foto davvero interessante anche il dispositivo ci sono un po' di antennine vedi una bella confezione mi piace anche il logo bravi e devo dire che ci dà la possibilità di risparmiare non poca energia poi immagina Jacinto anche quelle costruzioni nuove piuttosto che quelli che stanno facendo adesso ristrutturazioni ci sono anche un po' di agevolazioni io così le sento di sfuggita quindi magari fare anche un passo come dire utile all'ambiente all'energia utilizzando una tecnologia nuova con l'intelligenza artificiale perché no? Sì l'azienda Brainbox non è italiana ma il distributore italiano è totalmente italiano insomma andatevelo a cercare perché potrebbe dare una mano a efficientare un po' i vostri edifici o che so magari sia un amministratore di condominio e in tanti ti chiedono ma come facciamo come mai spendiamo un sacco di soldi o sei un imprenditore nel mondo edile non sai come distinguerti sul mercato per insomma essere più innovativo bene hai fatto bene ad ascoltare fin qui la puntata ti sei portato a casa questo bel suggerimento Brainbox e AI Pasquale ma se non erro Pasquale c'è qualcosa da aggiungere in chiusura di questa puntata numero 107 parliamo sempre di assistenti virtuali ma parliamo di un regalo possiamo chiamarlo un omaggio possiamo chiamarlo un privilegio per gli iscritti delle Academy noi ve l'avevamo detto ve l'avevamo anticipato che sarebbe stato un ottobre novembre dicembre da urlo e infatti chiuderemo ottobre con un grande appuntamento un grande omaggio per voi il 29 alle 17.30 c'è il demo day di Elisse esatto tramite questo demo day potrai scoprire gli ingredienti alla base di un assistente virtuale di successo ci sarà Marco Lunghini ci sarà Gaia Gambarelli e anche Alessandro Benassi con cui potrete mettere voi direttamente con loro mani ne impasta per capire che cos'è un assistente virtuale come si configura e come si addestra per fare in modo da non fare cattive figure insomma l'abbiamo sempre detto e viva gli assistenti virtuali ma che funzioni insomma allora abbiamo chiesto a Elisse di farci vedere come funzionano i loro assistenti virtuali gli amici di Elisse per chi ci seguono un po' come dire da qualche mesetto erano con noi anche alla AI Week a maggio e c'è questo doppio appuntamento in questa AI Academy con questo Demo Day uno degli aspetti che mi interessa particolarmente è la parte delle integrazioni di questi assistenti virtuali non a caso durante il Demo Day Alessandro Alessandro Benassi che citavi prima ci spiegherà infatti come integrare questi bot con magari dei contact center quindi con chi ha magari una piccola esatto con chi ha magari già una piccola struttura organizzata di un centralino ecco l'assistente virtuale fa anche al caso vostro ragazzi quindi occhio che ci sono tante cose utili che potete imparare da questo Demo Day è gratuito alle 17.30 il 29 io lo seguirò tutto ad un fiato ci saremo noi come dire a condurre ecco se così vogliamo dire ma in realtà il cuore dell'intervento è nelle mani dei ragazzi di Elisse non perdete e allora vai di corsa su spiegazionemplice.io di corsa senza affanno però lì da qualche parte dovresti trovare un pulsante nell'interno dell'Eacademy per iscriverti lascia i tuoi contatti in modo tale che ti mandiamo il link per partecipare a questo meraviglioso appuntamento Pasquale anche oggi puntata 107 l'abbiamo archiviata guardiamo la prossima puntata 108 ci sono un sacco di progetti che stiamo preparando ma settimana prossima si inizierà a sentire qualche tamburo che annuncia ancora un po' di pazienza anche noi anche noi anche noi stiamo organizzando nelle nostre nelle nostre sale di concentrazione stiamo facendo documenti cose presentazioni e ci sarà una figata a novembre non dico niente non dico niente aspetta ci vediamo a novembre ciao ciao ciao